ragazzi ben trovati a chi facesse piacere chi volesse sostenere per chi volesse sostenere questo canale lo può fare gratis iscrivendosi ed attivando la campanellina basta un clic grazie per ieri sera perché eh cioè una live con dei numeri mostruosi ottocentosettanta persone collegate hanno già vista più di settemila persone eh vi ringrazio tutti tantissimi messaggi di apprezzamento Giuse fai più video Giuse fai più live vi ringrazio eh mi volete spronare a fare più video più live eh il problema è solamente uno il tempo ma se avessi più tempo sicuramente avrei modo di farne molti di più di video e di live anche se per come la vedo io meglio guardare alla qualità che alla quantità è inutile fare dieci video al giorno e dire le stesse cose è meglio farne meno ma farne diciamo di più capito eh con contenuti più importanti e sembra che questa di Cardi sia una fake news io non lo so non faccio calciomercato eh c'è chi dice la c'è chi dice che Novella duemila ha detto Icardi all'Inter e Donna Moderna dice Taremi vedremo tra Donna Moderna e Novella duemila chi la spunta dai a parte gli scherzi non lo so sembra o comunque sia stata una voce messa lì apposta anche perché i costi per i Cardi sarebbero altissimi e ad oggi la proprietà è sempre cinese noi ieri abbiamo un attimino illustrato po' tutte le opzioni eh diciamo eh che ci potrebbero essere da qui al passaggio di proprietà noi siamo sempre dell'idea che Octree non escuterà il pegno e che ci sarà il passaggio di proprietà a breve ma ad oggi possiamo certificare che non c'è stato nessun passaggio di azioni per quello che riguarda poi dopo eh proprio la punta e riferimento a a questa eventuale fake news di Cardi io non lo so se è una fake news ma nelle ultime ore stanno dicendo un po' tutti questo non parlo di YouTube eh attenzione cioè nel calcio moderno ragazzi sappiamo tutti benissimo che ci sono tanti turni eh infrasettimanali sappiamo anche che eh si possono fare cinque cambi e che anche gli altri sfruttano tutti i giocatori freschi ormai li usano tutti cinque cambi parliamoci sinceramente senza stare a girarci troppo intorno quindi non puoi non puoi avere nel calcio moderno troppa differenza troppo dislivello tra chi gioca e tra chi sta in panchina perché poi alla fine tu la paghi questa cosa qua so se mi sono spiegato perché poi magari c'è la massima contrattura di un calciatore da una settimana diventano due da due diventano tre e te magari hai il turno infrasettimanale infrasettimanale il turno di Champions e eh in un mese giochi sei o sette partite di cosa stiamo ragionando qui ecco perché ti dico è pericoloso continuare con questo parco attaccanti lo so giuse non ci sono soldi lo sappiamo tutti che non ci sono soldi ancora per quello poi riguarda il classico calo fisio che i zaghi aveva anche alla Lazio ma secondo me il motivo è lo stesso e che ha avuto anche all'inter perché spesso è stato criticato lo staff di zaghi no? Cioè alcuni giocatori secondo me in certe zone del campo sono sono insostituibili proprio perché quelli in panchina eh hanno questo dislivello rispetto ai titolari quindi affatichi tantissimo i stessi giocatori e poi dopo lì ovviamente non sono dei cyborg e e danno un calo fisico ecco perché spesso le squadre di zaghi hanno questi cali fisici a questo questi cali mostruosi perché poi l'anno scorso noi siamo crollati per un periodo ma si fece male anche Brozovic la gestione atletica di una squadra che fa un calcio propositivo è un conto perché noi facciamo un calcio propositivo noi sviluppiamo gioco sviluppiamo tante azioni mentre la gestione fisica di una squadra che specula tipo faccio un esempio tipo allegri è diversa la gestione fisica di una squadra come quella di allegri che specula sull'errore rispetto ad una squadra che propone gioco ecco perché le squadre di zaghi spesso subiscano questo calo questo calo fisico cali fisici negli anni ovviamente proprio perché i zaghi è un allenatore che cerca sempre di sviluppare gioco e a livello fisico spendi molto di più mentre allegri è un allenatore che specula sul tuo errore e a livello fisico spende meno se poi te ci metti perché quest'anno secondo me il mercato lo scudetto passa anche dal mercato perché la juve oltre a giocare una volta a settimana gioca anche in maniera speculare capito disperde molte meno energie rispetto a noi che facciamo un calcio propositivo ora te l'ho detta qual è la mia idea non ho problemi a dirtelo per quelli poi che criticano turam io gli potrei consigliare eh la dama gli potrei consigliare biliardino lo stesso biliardo non 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 gli consiglio di guardare il calcio per chi critica turam contro lecce e genoa cioè anche perché il signor marcus turam che è quasi sempre stato decisivo ad oggi in alcuni movimenti io parlo delle due partite lecce e genoa a me è piaciuto tantissimo perché la gente purtroppo la guarda solo la palla e entra dentro bisogna farla finita di guardare solo la palla e entra dentro poi ovviamente sto scherzando ognuno la partita la guarda e la valuta a modo suo ma se bisogna essere onesti ed obiettivi te non puoi guardare solo la palla che entra dentro perché se te vuoi valutare una partita se te vuoi valutare un calciatore te lo devi valutare anche in base ai movimenti e nei movimenti di turam che ha fatto con lecce ma anche con i genoa a me è piaciuto tantissimo perché si si è dovuto interfacciare con Arnautovic lo sai cosa vuol dire giocare con Arnautovic perché poi turam saltava l'uomo e scaricava saltava l'uomo e scaricava faceva quello che poteva fare con un giocatore come Arnautovic e te lo spiego nel mio piccolo perché io ragazzi non sono youtuber lo ripeto io sono un tifoso come voi la distanza tra i due attaccanti e un Arnautovic era 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 tanta troppa perché perché Arnautovic non ha la forza di accorciare e di andare incontro alla palla ecco perché li vedevi distanti a volte si pestano i piedi proprio perché Arnautovic non ha mobilità è un giocatore che rimane fermo e quindi cosa succede succede tra i due attaccanti c'è troppa capito c'è una distanza importante perché lo stesso giocatore austriaco capito non ha la forza di accorciare le distanze e di prendere la palla è normale chi gioca con lui soffre e poi ricordiamoci che Lautaro Martinez che fino all'anno scorso l'ha criticato da molti interisti non ha mai avuto una partenza a bomba così e per come la vedo io opinabile ci mancherebbe una partenza così l'ha avuta anche grazie al lavoro che fa Turam che lega il gioco e viene al centrocampo che fa densità ma di cosa stiamo ragionando la gente critica Turam ma di ma guardate ma ma guardate il golf per favore ti dirò di più quando si è fatto male Arnatovic che ha provato quello scatto secondo me lui non farà più nemmeno quella tipologia di scatti proprio perché si è rotto tutto provando a fare cose del genere e l'età ragazzi avanza purtroppo quindi eh Turam rimane ovunque un giocatore che nel breve riesce a superare l'uomo a creare superiorità numerica ti scarica la palla ti fa densità cioè la gente ora lo vuole valutare solo per i gol no non è giusto è giusto no la giù le giù le giù le mani da Ticus giù le mani da Ticus Turam giù le mani da Ticus Turam e togliete la lausola ciao Inter